Incidente sulla strada statale 115, un ferito, intervento dei vigili del fuoco. Furto di gioielli, pistole e cartucce, ladri in azione a Canicatì, presa di mira l'abitazione di un commerciante. Michele Placido al teatro Margherita di Caltanissetta, martedì 7 con la bottega del caffè. Antologia reporter stasera alle ore 21 su TFN, Gesù Nazareno, processione dal 1870. San Cataldese Trapani, domenica alle ore 15, giornata verde amaranto allo stadio Mazzola di San Cataldo. Bentrovati, incidente sulla strada statale 115, un ferito, intervento dei vigili del fuoco. È stato un mercoledì di paura per un camionista palermitano di 50 anni. Il tir guidato dall'uomo, carico di arance, si è ribaltato lungo la statale 115 all'altezza del centro commerciale Le Rondini, a Porta Empedocle, dopo aver urtato una Chevrolet che era stata lasciata parcheggiata sul ciglio della strada. L'episodio si è verificato mercoledì sera, nella statale solitamente molto trafficata, che unisce Agrigento e Cosciacca. Il camionista, un cinquantenne palermitano, è rimasto ferito e intrappolato all'interno della cabina guida. Sono stati i vigili del fuoco del comando provinciale di Agrigento, intervenuti tempestivamente a soccorrerlo e tirarlo fuori. L'uomo è stato portato al pronto soccorso dell'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Fortunatamente è stato dichiarato non in pericolo di vita. L'uomo era alla guida del tir, di proprietà di una ditta di trasporti di Palermo che trasportava le arance di Ribera ed era diretto a Busto Arsizio, in provincia di Varese. Sono stati i militari della Guardia di Finanza e di passaggio a chiamare subito i soccorsi. I vigili del fuoco con l'autogru hanno rimesso su strada il tir. L'intervento sarebbe durato circa cinque ore. Furto di gioielli, pistola e cartucce. Ladri in azione a Canicattì, presa di mira l'abitazione di un commerciante. Sabato sera dei ladri hanno messo a segno un furto in Contradarci, Taverna, Santa Marta a Canicattì, nell'abitazione di un commerciante cinquantenne. I ladri, secondo una prima ricostruzione, con un flex sarebbero riusciti ad aprire la cassaforte e a portare via una pistola a calibro 7,65, completa di caricatore e 50 cartucce, regolarmente detenuti e loro di famiglia. L'azione è stata compiuta durante l'assenza dell'uomo e della sua famiglia, fra le 18.30 e la mezzanotte. Sarebbero penetrate all'interno dell'abitazione, dopo aver forzato un infisso. I ladri poi hanno trovato la cassaforte e l'hanno aperta con l'utilizzo del flex. Hanno prelevato tutto il contenuto, gioielli, pistola e cartucce. Quando il proprietario è rientrato, si è reso subito conto che qualcuno era entrato in casa, così ha chiamato i carabinieri della compagnia di Canicattì. 20 anni fa Enna ha avuto l'Ateneo, ora tocca a Caltanissetta. Il policlinico deve sorgere nella nostra provincia, così Matilde Falcone, presidente della Commissione Sanità del Comune Nisseno. Sul tema dell'istituzione del quarto policlinico universitario si registra l'intervento della presidente della sesta Commissione Sanità, Matilde Falcone, che richiama l'attenzione sui requisiti della provincia nissena. La sesta Commissione Sanità ha avallato la proposta che io ho portato in conferenza dei sindaci di coinvolgere tutti e 22 i comuni della nostra provincia nell'approvazione del documento dell'atto di indirizzo che è stato approvato da Strasera in Consiglio all'Unione Alminità. Noi pensiamo che il policlinico sia un'occasione troppo importante e che la città di Casalissetta non può perdere, ma non solo la città di Casalissetta, non la può perdere tutta la provincia, ma anche il bacino centro-meridionale. Bisogna animare a un dibattito nell'ambito della provincia e nell'ambito dei consigli comunali e rendere edotti e partecipi quelli che sono i consiglieri comunali dei 22 comuni che sono e che siamo naturalmente i politici che sono stati eletti dal popolo e quindi dobbiamo essere pronti e organizzati anche dal punto di vista territoriale a condurre una vera e propria battaglia che ci porti a non perdere, battaglia naturalmente tra virgolette dal punto di vista politico mi sembra chiaro, che ci porti a non perdere questa occasione che è così importante. Adesso con il Presidente del Consiglio si stanno contattando anche gli altri consigli comunali della provincia di Agrigento, perché anche la provincia di Agrigento può avere un notevole impatto anche economico, perché un policlinico è importante non solo e soltanto per la cura della persona e quindi per la sanità, ma anche un notevole riscontro per quanto riguarda lo sviluppo economico anche l'indotto e la ricerca anche dal punto di vista universitario, di coinvolgere gli altri consigli comunali anche dei paesi vicinori della provincia di Enna, perché magari ci sono comuni come Barra Franca e Pietra Persia che sono molto vicini a Caltanissetta, che potrebbero anche essere più interessati ad un policlinico nella nostra città, anche perché non dobbiamo dimenticare che noi abbiamo un ospedale DEA di secondo livello, che per carità va migliorato per molti aspetti, va incrementato anche di altri reparti, ma che chiaramente è un requisito necessario insieme alla Facoltà di Medicina e insieme al CECFAS, così come abbiamo scritto nel documento, per l'istituzione del policlinico centro meridionale qui nella nostra città. Non possiamo nemmeno prescindere dal lavoro importante che sta facendo il Consorzio per l'Università, con l'istituzione anche di nuovi corsi di laurea, anche per quanto riguarda le professioni sanitarie. Vent'anni fa l'Università di Enna ha avuto, anche per compattezza, lo dobbiamo riconoscere, il riconoscimento dell'Ateneo, mentre si discuteva con Caltanissetta e Agrigento, Enna, la classe politica di Enna ha fatto quadrato, noi non siamo riusciti a fare quadrato, ma adesso loro avranno l'Ateneo e ora è giusto che il policlinico venga istituito a Caltanissetta. Covid in Sicilia, bollettino settimanale, contagi ancora in calo. Nella settimana dal 20 al 26 febbraio, in Sicilia si è assistito ancora a un netto decremento delle nuove infezioni, in linea con la tendenza nel territorio nazionale. I nuovi casi positivi diagnosticati sono stati 1.380. Il tasso di nuovi positivi più elevato rispetto alla media regionale si è registrato nelle province di Trapani, Messina e Palermo. Le fasce d'età maggiormente a rischio risultano quelle degli over 90, tra gli 80 e 89 anni e tra i 70 e 79 anni. I dati sono riportati nell'ultimo bollettino settimanale a cura del Dasue, il Dipartimento per le Attività Sanitare e Osservatorio Epidemiologico dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana. Le nuove ospedalizzazioni sono in lieve diminuzione, sebbene la diffusione dei contagi pregressi si rifletta ancora su una prevalenza di soggetti ospedalizzati, con positività congomitante da Covid-19. Più di metà dei pazienti in ospedale nella settimana di riferimento risultano non vaccinati. Per quanto riguarda i vaccini, i dati sono aggiornati al 28 febbraio. Nel target 5-11 anni, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 23,39%. Sono 61.970 i bambini che risultano con il ciclo primario completato, pari al 20,11%. Nel target over 12, i vaccinati con almeno una dose si attestano al 90,99%. I soggetti che hanno completato il ciclo primario sono l'89,61%. I cittadini che non hanno effettuato la terza dose, pur avendo maturato il diritto a riceverla, sono ancora 1.120.658. I vaccinati con dose aggiuntiva booster sono 2.773.984, pari al 71,23% degli aventi diritto, incluso il target 5-11 anni. Le somministrazioni di quarta dose sono 247.718, di cui 213.449 a soggetti over 60. Le quinte dosi somministrate risultano complessivamente 9.779. Regione siciliana, riqualificazione urbana, appalto da 1.400.000 euro per recuperare l'area nord-est di Barra Franca. Sono stati appaltati per 1,4 milioni di euro i lavori di consolidamento e riqualificazione urbana della zona nord-est di Barra Franca, comune in provincia di Enna. L'ufficio contro il dissesto idrogeologico, guidato dal presidente della regione siciliana Renato Schifani e diretto da Maurizio Croce, ha così completato l'iter per mettere la parola fine a una situazione di pericolo, ma anche di forte degrado ambientale, che si trascinava da tantissimi anni. Erano condizioni inaccettabili per un contesto urbano. Tengo a sottolineare la fattiva collaborazione con la Commissione straordinaria che amministra il Paese, dice il Governatore, al quale adesso verrà finalmente restituito uno spazio vivibile, con una nuova identità. L'obiettivo infatti è realizzare un'area verde con percorsi pedonali, lì dove il completo abbandono e una serie di movimenti franosi, già arginati nel 1996 dal genio civile, con un intervento d'urgenza che nel tempo ha esaurito parte della sua efficacia, avevano creato a tutti gli effetti una zona inaccessibile. Si tratta di un'area di 4.000 metri quadrati sottoposta a continui smottamenti del terreno che potrebbero diventare un serio pericolo per le abitazioni che si trovano lungo il perimetro della zona da bonificare. Il progetto prevede la formazione di alcune gabbianate che verranno disposte su tre file per assicurare piena stabilità al suolo, mentre per mettere in sicurezza gli edifici si ricorrerà dei muri. La reggimentazione delle acque, invece, sarà attuata attraverso opere di drenaggio, a beneficio anche del cosiddetto impatto paesaggistico. A Caltanissetta, interventi di manutenzione da portare a termine in Corso Vittorio Emanuele. I lavori per la sistemazione delle basole spezzate nel tratto veicolare di Corso Vittorio Emanuele all'altezza tra la Camera di Commercio e il Teatro Margherita sono ancora incompleti. I lavori, avviati ai primi di gennaio, avrebbero dovuto prolungarsi per una decina di giorni. Invece, è trascorso più di un mese da quando avrebbero dovuto essere completati e i lavori sono stati di nuovo sospesi. Questi lavori, soprattutto nelle ore di punta, portano disagi agli automobilisti formando lunghe code. Abbiamo condattato l'assessore in merito Marcello Franciamone che ha dichiarato che i lavori verranno ultimati a partire dalla prossima settimana quando la ditta riceverà il materiale per completare i lavori. Sessantesima edizione del convegno internazionale di studi pirandelliani. Presentazione al liceo classico Ruggero VII di Caltanissetta. Il mese di marzo inizia con la presentazione nell'aulamagna del liceo Ruggero VII di Caltanissetta del sessantesimo convegno internazionale degli studi pirandelliani previsto nel mese di dicembre. Un'iniziativa che ha coinvolto non soltanto gli studenti della scuola ma anche di altri istituti superiori della città, Mussomeli e Mazzarino. Il convegno questa mattina è stato presentato alle scuole del territorio di Caltanissetta e della provincia dai professori che stanno gestendo e curando il convegno pirandelliano, la sua sessantesima edizione. In particolare Rino Caputo è docente di letteratura italiana all'Università Torvergata di Roma, è presidente merito del Centro di Studi Pirandelliali, il professor Stefano Migliotto, e la professoressa Carmela Pace che è attuale presidente del centro ed è tra l'altro presidente nazionale dell'Unicef. Collaborati dai docenti che sostengono questo progetto hanno presentato le modalità di partecipazione agli studenti presenti, ai docenti presenti e dato avvio così alla nuova annualità. Si terrà il convegno nel mese di dicembre e noi, come altre scuole della provincia e di tutta Italia, parteciperemo volentieri a questa sessantesima edizione. Per noi è stata l'occasione per dare l'avvio alla nostra festa di scuola perché celebriamo dal primo marzo fino al tre marzo i 160 anni dalla fondazione del liceo. Il secondo appuntamento della giornata è stato il quarto seminario di studi classici in onore di Francesca Fiendacariggi, presenti tra i docenti provenienti dalle università che fanno parte del partenariato dell'evento. Quest'anno, dal titolo Gli animali nel mondo antico, medievale, tra realismo e simbologia. La mia indagine vuole un po' analizzare quali sono le caratteristiche di questa fauna sia gli animali domestici sia anche quelli selvatici che vengono menzionati negli idilli, in particolare negli idilli di natura più prettamente pastorale, per vedere quanto ci sia di realistico e quanto invece ci sia di convenzionale e di letterario. Ci sono degli studi per esempio sulla botanica degli idilli di Teocrito, ma per quanto riguarda più specificamente la fauna in effetti ho notato che c'è poco. Quindi è un argomento su cui vale la pena di spendere qualche parola. Tanto nell'immaginario quanto nella storia della letteratura il cane ha una duplice valenza. Da un lato a volte positiva con quelle qualità che tutti riconosciamo oggi al cane come miglior amico dell'uomo, la fedeltà, la devozione, l'intelligenza. Dall'altro invece spesso nella storia della letteratura il cane ha assunto anche caratteri negativi. Questa ambivalenza è il punto focale del mio intervento. Io ho cercato di focalizzare l'attenzione su alcune immagini letterarie relative alla rappresentazione animalesca come possibilità per metaforizzare da parte di un autore quale Lucanu in un'opera molto importante come la guerra civile il comportamento efferato degli uomini peggiore di quello degli animali. Comuni turistici la regione adotta l'elenco aggiornato. L'assessore al turismo Elvira Amata dice rafforziamo l'offerta insieme all'amministrazione. L'assessore al turismo Elvira Amata ha firmato il decreto che adotta l'elenco aggiornato dei comuni turistici della Sicilia in base alla più recente classificazione compiuta dall'Istat. Complessivamente sono 291 le località individuate nell'isola dall'Istituto Nazionale di Statistica. Si tratta di uno strumento di particolare rilevanza ha dichiarato Amata che consente ai comuni che ne fanno parte di istituire l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive. I proventi contribuiranno a promuovere i territori migliorandone l'attrattività turistica. All'interno del decreto c'è una folta presenza dei comuni della provincia di Caltanissetta di Agrigento e di Enna. Nello specifico nel territorio agrigentino troviamo Aragona Bivona Cammarata Campobello di Licata Canicattì Casteltermini Castrofilippo Cattolica Eraclea Favara Lampedusa Linosa Licata Menfi Montallegro Montevago Palma di Montechiaro Portempedocle Racalmuto Raffadali Ravanusa Realmonte Ribera Sambuca di Sicilia San Giovanni Gemini Santa Margherita di Belice Sant'Angelo Muxaro e Santo Stefano di Quisquine insieme a Sciacca e Siculiana mentre nella provincia di Caltanissetta Bonpensiere Butera Caltanissetta Campofranco Gela Mazzarino Montedoro Mussomeli Riesi San Cataldo Serra di Falco Sommatino Sutera e Villalba Nell'Enese infine Agira Aidone Assoro Barra Franca Calascibetta Catena Nuova Centuripe Cerami Enna Gagliano Castelferrato Leonforte Nicosia Nissoria Piazza Armerina Pietra Persia Regalbuto Troina Valguarnera Caropepe e Villa Rosa Real Mestranza Marmisti e Falegnami rinnovano le cariche Porta Bandiera alla Bardiere e Porta Baldacchino Dopo la cerimonia Dopo la cerimonia del passaggio di consegne tra le cariche capitanali tra la categoria entrante e uscente dell'area al Mestranza si avvicina sempre più il 4 marzo giorno del passaggio delle consegne nelle 10 categorie dell'area al Mestranza e negli ultimi giorni di febbraio sono arrivate altre nuove nomine L'Assemblea della categoria dei Falegnami dei Banisti guidata dal presidente Roberto Nicosia ha eletto all'unanimità il nuovo Porta Bandiera per il 2023 si tratta del 34enne Luigi Passaro accanto a lui è eletto anche il figlio Michele di 15 anni che rivestirà il ruolo di alla Bardiere il 66enne Antonio Carapanzano è stato scelto come Porta Baldacchino anche la categoria dei Marmisti con il suo presidente Luigi Fiocco si è riunita in Assemblea per procedere alle elezioni del Porta Bandiera che sfilerà nelle processioni del 2023 e cioè Giancarlo Salerno classe 66 e della Labbardiere il 18enne Calogero Zola esposto Michele Placido al Teatro Margherita di Caltanissetta martedì 7 con la bottega del caffè a Proda a Caltanissetta sul palco del Teatro Regina Margherita martedì 7 marzo alle ore 21 la bottega del caffè il capolavoro di Carlo Goldoni con Michele Placido che ha già registrato moltissimi successi uno spettacolo che diverte tratteggiando il piccolo mondo di un gambiello veneziano con le sue luci ed ombre protagonista Michele Placido un maestro dello spettacolo italiano capace di regalare al personaggio di Don Marzio sfumature ambiguità e ironia con lui una numerosa compagnia di interpreti che diretta da Paolo Valerio si muove in scena con forza espressiva e ispirazione un assieme importante è una commedia ricca di leggerezza e significato che ricrea il microcosmo posto al centro dell'opera goldoniana attraverso un allestimento accurato che anima questo capolavoro di Carlo Goldoni arriva a Caltanissetta un'opera molto importante con un grande Michele Placido uno dei nomi più illustri del panorama teatrale commentano il sindaco Roberto Gambino e l'assessore della cultura Marcella Natale una grande produzione con un allestimento imponente che porta in scena luci e ombre di un microcosmo sociale e uno spaccato di umanità affascinante universale e attuale la bottega del caffè di Carlo Goldoni con Michele Placido e con Luca Altavilla Emanuele Fortunati Esther Galazzi Anna Gargano Armando Granato Vitolo Priore Francesco Migliaccio Michelangelo Placido e Maria Grazia Plos per la regia di Paolo Valerio è una produzione del teatro stabile del Friuli Venezia Giulia e fondazione Teatro della Toscana la stagione teatrale Svela Mendi è promossa dall'amministrazione comunale in collaborazione con il conservatorio Bellini di Caltanissetta Coscido Budo domenica raduno degli appassionati al palazzetto dello sport Peppe Maira di San Cataldo si svolgerà domenica 5 marzo presso il palazzetto dello sport Peppe Maira di San Cataldo lo stage di arti marziali Coscido Budo il Coscido Budo o via per la ricerca dell'equilibrio è l'arte marziale che cerca di sintetizzare le più note tecniche orientali ma che come pratica ha origini siciliane date dal suo fondatore Michele Lattuca gli allievi provenienti da 20 comuni siciliani ed una delegazione emiliana si incontreranno per una dimostrazione della disciplina in virtù del riconoscimento ricevuto dalla regione siciliana molte le personalità che saranno presenti José Alberto Freda consulente scientifico Michele Mancuso deputato regionale e proponente della legge del riconoscimento del Coscido Budo come disciplina sportiva Sergio D'Antoni presidente regionale del CONI Andrea Patti vicepresidente dell'OPES organizzazione per l'educazione allo sport Girolamo Monaco direttore istituto penale minorile di Caltanissetta Leonardo Burgio sintaco di Serra di Falco Gianfilippo Bancheri sintaco di Delia Giuseppe Virciglio sintaco di Buon Pensiere e Salvatore Scarantino responsabile provinciale del CONI Calcio domenica alle ore 15 giornata verde amaranto allo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo per San Cataldese Trapani Sarà giornata verde amaranto così la società della San Cataldese ha annunciato con un post social l'arrivo del Trapani al Valentino Mazzola per la squadra di Infantino la ventisesima giornata del campionato di Serie D Girone I prevede il big match contro una delle nobili decadute del torneo il presente dei Granata racconta la rincorsa all'obiettivo playoff sono lontani i tempi in cui il Trapani regalava emozioni nel calcio professionistico con la Serie A svanita nella finale playoff persa contro il Pescara era la stagione 2015-2016 sterse Cosmi in panchina da quell'istante l'illusione dell'apoteosi si declinerà quattro anni più tardi nella mesta realtà del fallimento dichiarato il 22 dicembre 2020 da lì la rinascita dalla Serie D culminata con l'arrivo nel 2021 dell'imprenditore catanese Marco Larosa che ha deciso di puntare sul calcio a Trapani acquisendo le quote maggioritarie del club per la San Cataldese quindi un pomeriggio di gala in cui lo stadio Valentino Mazzola sarà vestito come soltanto le grandi occasioni meritano giornata Verda Maranto stoppa gli abbonamenti per l'occasione con il costo del biglietto che va dalle 15 euro della gradinata centrale agli 8 euro della curva per la San Cataldese la migliore occasione per dimenticare la sconfitta contro il Santa Maria Cilento per il Trapani la possibilità di scalare la classifica in vista dell'obiettivo playoff in mezzo 90 minuti per decidere fra la gioia o la disperazione calcistica si intende è tutto vi lascio al meteo alle informazioni di pubblica utilità grazie per l'attenzione appuntamento rinnovato alle prossime edizioni ben trovati in aggiornamento con la tendenza per la giornata di venerdì quando ancora un ciclone mediterraneo terrà sotto scacco tutta Italia con precipitazioni il nord in realtà vedrà schiarite sempre più convincenti perché l'alta pressione sarà in rinforzo un'alta pressione enorme proprio a nord delle Alpi con i massimi tra mare del nord isole britanniche Francia sull'Italia quindi ancora questo minimo di bassa pressione in lenta traslazione verso est gli effetti con la prossima cartina dove possiamo notare tante nuvole ancora al centro sud delle piogge e anche qualche temporale coinvolte ancora le due isole maggiori con clima ventoso il nord invece vedrà rassenamenti sempre più ampi tutti i dettagli precisi li trovate però anche per il weekend scaricando l'app gratuito di Trapi Meteo servizi di pubblica utilità farmacie di turno Caltanissetta servizio diurno al Duomo via Filippo Paladini servizio notturno buonasera via Edmondo De Amicis e grazie a tutti i nostri video